L'Abruzzo ha scelto Expo Milano per presentare attraverso il polo di innovazione farmaceutica Capitank il progetto di sviluppo di una vera e propria Silicon Valley delle scienze della vita che punta su tre ambiti di azione, biotecnologie, automazione industriale e sostenibilità ambientale. Capitank ha stabilito il suo quartier generale all'Aquila e per questo potrebbe essere un volano importante per il rilancio dell'economia del capoluogo di regione ferito dal sisma del 2009. Sicuramente questa iniziativa serve per far conoscere e per dimostrare come la regione si sia impegnata in questo aspetto sia scientifico che industriale per far sì che la regione diventi poi il polo attrattivo in questo caso dell'industria farmaceutica. Ritengo che questo sia il modo nuovo di fare ricerca, sia quello di creare un ecosistema favorevole ad attirare probabilmente investimenti, un sistema di interazione fra università e imprese che generi sinergia. Questo è un modello che non abbiamo inventato noi, è un modello sicuramente unico in Italia che nel mondo sta diventando, come posso dire, una pratica normale. A conclusione dell'evento convegno per la presentazione del polo Capitank è stato siglato l'accordo di programma per la realizzazione del centro di ricerca e innovazione oftalmologico Abruzzo, regione della Vista. Un accordo che ha per obiettivo l'attivazione di un'azione coordinata per la ricerca preclinica e clinica e la sperimentazione degli ambiti tecnologici relativi alle patologie dell'occhio. Questo non è un progetto localistico, ma è un progetto che parte in Abruzzo per avere un respiro nazionale ed internazionale, per avere la possibilità di far sì che l'Abruzzo rappresenti un punto di partenza per la ricerca e per la clinica internazionale. Non è solo innovazione gli scopi di questo Abruzzo della Vista, ma vi è anche una componente fondamentale che è la formazione. Servono figure professionali all'avanguardia nel campo dell'oftalmologia in grado di dialogare anche con altre branche, quali la bioingegneria, la genetica, la biologia molecolare e anche l'educazione.